Pala Rock del Salento nasce ad Aradeo, un contenitore musicale che dal 16 al 31 dicembre ospiterà artisti, musicisti e gruppi che si alterneranno sul palco per un vero e proprio festival. Papaciango, Zodi 105, Sul Sun System, Apre la Classe, ideatori del progetto, accolto subito da Don Rico, Terron Fabio e Nandu Popu, le celebri 3S, i maestri della Dance Soul, da ormai due decenni ancora sul palco per bruciare. E' un po' la follia di cinque ragazzi che si sono messi dentro a cercare di creare appunto una line-up di artisti che potesse essere un contenitore in un anno come quello che è. E per tutte le serate sarà attivo il servizio navetta, taxi, area travel che consentirà a tanti giovani di essere scarrozzati. Il 23 crediamo sia un punto di riferimento per il nostro tour invernale che chiude qua nel Salento. Un ricco calendario che merita di essere rispettato da tutti. Serve una scuola sia per il reggae sia per la pizzica perché, ripeto, sono delle eccellenze del Salento e guai a non dargli retta. Stiamo a Natale, insomma, mettetevi una mano sulla coscienza, classe dirigente, destra, sinistra, centro. Qua c'è gente che può lavorare, abbiamo delle eccellenze che possiamo esportare. Mi chiedo perché si stanno ancora contando i pollici.